Partiamo dal presupposto che potete stare tranquilli. Per questi piccoli problemi di cuore non avrete bisogno di consultare un cardiologo, ma solo di prepararvi a 79 puntate di tira e molla amorosi che io nemmeno in 26 vite avrei avuto tutta questa attività amorosa al liceo. A 16 anni avevo la maturità emotiva di un tortino di patate, mentre questi sono già tutti vissuti e maturi. Ebbene sì, questo video lo avevo già fatto nel lontano 2014 ed era uno di quelli a cui ero più affezionata. Ma siccome la Toei Animation e il Fair Use sono due rette parallele destinate a non incontrarsi mai, il video è stato polverizzato. E per poterlo tenere in qualche modo mi tocca rifarlo col nuovo format. Ma è una gioia Toei, ma è una gioia. E poi con tutta la roba di Sailor Moon che ho comprato mi dovresti mandare i cesti a Natale. Non scherta vetrarmi i maroni per un video su YouTube, ma tralasciamo e parliamo della trama. Il protagonista della storia è Miki, una ragazzina la cui vita viene totalmente stravolta quando i genitori annunciano il loro imminente divorzio per scambiarsi i partner con una coppia conosciuta all'Hawaii. Immagino che bella vacanza abbiate passato, eh? Brighella! L'altra coppia ha un logicamente bellissimo e biondissimo figlio, Yuri, perché non sia mai che una protagonista debba avere a che fare con un ragazzo cesso. All'inizio i due non sembrano sopportarsi molto, almeno fino a quando Miki non riceve una pallonata in faccia durante l'ora di educazione fisica e finisce in infermeria. E mentre è sdraiata sul lettino fingendosi svenuta, il ragazzo ne approfitta per baciarla. Ma quando mai una persona che sta dormendo, per finta o no, non si accorge che c'è uno che se la sta limonando? Su via! Che poi solo negli anime si dorme belli, dritti e composti, io dormo stile twister barra fusillo, abbracciata al cuscino. A tutto ciò si aggiunge anche la situazione con Ginta, compagno di classe di Miki e sua ex Fiamma, che lei aveva definitivamente mandato a quel paese dopo che lui aveva fatto leggere la lettera con cui lei gli dichiarava i suoi sentimenti, facendo fuggire la poverina su di una scala molle ed infinita. Ginta però si pente di quanto fatto e con la forza bacia la ragazza, dichiarandolo il suo amore. Ma secondo me limonare duro una fanciulla contro la sua volontà dopo averle oltretutto fatto una bastardata non è proprio il metodo migliore per riconquistarla, però opinione personale. Ad aggiungere altra carne al fuoco Piomba Rimi, ex ragazza blu capelluta di Yuri, che in piena love battle lancia una sfida d'amore a Miki. Già a un principio di ulcera la protagonista si riconfida con la sua migliore amica, Mary. La quale però non è che stia messa molto meglio a livello di casini amorosi dal momento che sta frequentando un giovane professore, Nick. Liaison che lui dovrà troncare perché sorpreso a farsi una minorenne deve ovviamente lasciare la scuola per evitare scandali. Mary dopo mille peripezie condite anche da Steve, un ragazzo che comincerà a broccolarla fortissimo, riesce finalmente a convincere Nick a rimettersi insieme. A ciò va aggiunto al fatto che Indy, e volevo dire Yuri, crede che il padre di Steve sia il suo vero genitore. Cosa che in realtà scopriamo non essere vera in quanto l'uomo era un ex spia che aveva perso la memoria seguito di un incidente in barca. Pure l'elemento spia senza memoria abbiamo in staserie non manca niente. Nel frattempo Arimi e Ghinta decidono di fingere una relazione per fare ingelosire le rispettive fiamme, ma non cavando in un ragno dal buco finiscono per innamorarsi l'uno dell'altra. Quando finalmente Yuri e Mickey si confesseranno i loro sentimenti con tanto di bacio romantico dato al tramonto perché è rigoroso, spiaggia, tramonto, fuori d'artificio, ci sono dei canoni da rispettare, ecco che piomba in scena un ennesimo elemento fastidio, ovvero Susie. Una modella, manco a dirlo, bellissima che si innamorerà di Yuri, mentre a broccolare e Mickey ci penserà Alessandro, che praticamente è Yuri con i capelli color grande e puffo, ovvero un talentuoso pianista. Ma non contenti, ecco spuntare fuori anche Angela, ex primo amore di Yuri. Non c'è stata capi più niente? Forza tenete duro. Per incasinare ancora maggiormente l'orda di pretendenti, ecco arrivare dagli Stati Uniti, Michael, che si piazzerà a casa di Yuri e Mickey e comincerà, ovviamente, a broccolare quest'ultima. Ad un certo punto, nella migliore tradizione delle storie d'amore nipponiche, Yuri parte per gli Stati Uniti per studiare. E qui, manco a dirlo, incontrerà l'ennesima ragazza disinibita che si innamora di lui, Ginny. Cioè, qua tutti si innamorano con la stessa frequenza con la quale io ho fame, ovvero sempre. Preoccupata dalle voci che sta sentendo sulla promiscuità del suo fidanzato oltreoceano, Mickey parte per gli Stati Uniti. Ma sfiga vuole che quando la giovane arrivi al dormitorio, di tutti i mille e mila studenti incontri proprio Ginny, la quale per alzare il suo status di perfidia, le confessa che adesso Yuri sta con lei. Distrutta da questa colossale palla alla quale lei crede in tempo zero, la fanciulla confessa al ragazzo che lei non riesce più a sopportare la distanza, nonostante lui sia partito da tipo tre mesi e quindi due si mollano. Anche se la separazione sarà breve, perché appena il ragazzo torna in Giappone risboccia l'amore. E qui finisce la serie, almeno per il pubblico italiano. In originale la storia continua con un notevole guizio di drammaticità. In soffitta Yuri trova delle vecchie foto di quando i genitori andavano al college ed inizia a sospettare di essere anche lui figlio del padre di Mickey, facendosi dei mega pipponi mentali senza nemmeno chiedere alla madre una conferma della cosa. Così senza spiegare nulla lascia la povera protagonista e torna negli Stati Uniti, chiarendo solo dopo il malinteso scoprendo di non essere parenti manco per una ceppa. Finalmente l'epopea finisce e vediamo Mary e Nick a convolare a nozze, seguiti da Yuri e Mickey, con Ghinta e Arimi in modalità love love insieme all'università, mentre Michael si metterà presumibilmente con Angela e Michael con Susie. Fino alla prossima infornata di flirt, ovviamente. Qui più che piccoli problemi di cuore abbiamo piccoli problemi di vita da gatto, perché starsene tutto il giorno in panciolle alla finestra, insomma, è comunque una vitaccia. Cioè non è che ti preoccupi tanto di chi si limona chi qua è, chi mi fa le coccole adesso. Sono comunque problemi, vero Indy? Eh sì, ha detto di sì. Quanti peli che perdi. Partiamo dal preduppotto... La prima frase già sbagliata, fantastico. L'ecorista della storia è una ragazza che sbaglia le lettere. I due sembrano non sopportersi troppo. Sopportersi. Tutto ciò si somma anche la situazione... Aggiunge, insomma... Il bagno di classe di Mickey e sua ex piamma. Che... no? La sua volontà non è proprio la motta giusta. Con un principio di ulcera, Mickey si confida alla sua migliore amica con la sua migliore amica. Non che lui si troverà costretto a tronchiare... In realtà scopriamo non essere... Buf, non me lo ricordo. Video over Susie, una molella... Che era modella, però anche molella è carino. Naturalo è Michael, un giovane e bollito... Biondino, come... Sono passata da biondino, bollito... Preoccupata dalle voci che sente sulla promiscita... Si, 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 si. Vole delle vecchie foto dei genitori... Castello Lulà e genitori.